Buongiorno traders, non avete idea di quanto io sia short. È una frase di Max? No, è una frase di Michael Burry. Vi ho abituato con frasi del tipo ho finito i soldi per andare short, ma il nostro amico Michael Burry, amico semplicemente perché anche lui è dalla parte delle cavallette e sta short, fa sapere in un post su Twitter questa cosa qua. Questa cosa qua ce la fa sapere sostanzialmente pochi giorni fa. E dopodiché arriva la smentita. La smentita sostanzialmente è che Justin, Michael Burry, has just said he is not short. Allora, non sei più short. Allora, sei short o non sei short? E allora Max è andato da Michael Burry e gli ha scritto Ciao Michael, noi siamo short a bestia con le nostre cavallette su tutto insieme ai codiciani, agli sbancatori e tutto quanto. E tu hai per caso cambiato idea? Thank you very much. E allora adesso vediamo se Michael Burry ci risponde. Fra l'altro poi questo post è stato cancellato, questo tweet, perché Michael Burry non solo si diverte a cambiare idea, ma anche a scrivere i post, poi a cancellarli e a metterli in un archivio dei post cancellati. È mirabolante. Insomma, però, se Max è ribassista e il mercato sale, starà perdendo dei soldi. Giusto o no? Sì, su questa posizione sì, ma non è la prima volta che mi capita e con ogni probabilità non sarà l'ultima. Però a bilancio la posizione ancora non l'ho chiusa, per cui la perita va contabilizzata perché sono sotto di un importo, ma vedremo come va a finire. La mia idea non cambia, pertanto l'operazione non la chiudo. Una parte della posizione non ha gli stop loss, però so dove andrei a chiudere la mano, una parte ce l'ha. In ogni caso, rimango sul mercato. Mercato che in questo momento sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento. Non so quando uscirà questo video, probabilmente quando uscirà, però, con il mio team, magari una parte dei giochi saranno fatti. Segui di cedimento su questa sostanza struttura qui, che possiamo vedere di questo livello di resistenza dinamico, che coincide con la media mobile a 200 periodi. In netta timeline, in netto allineamento con i minimi del VIX, volatilità che voi sapete essere quella estrapolata dalle opzioni dell'S&P e che in questo momento è sui minimi dell'anno. Vuol dire che il mercato ha scaricato tutto quello che poteva scaricare in termini di volatilità, di apprezzione sul futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è un grande ma. Perché, per esempio, ci sono le commodity che scendono, perché, per esempio, ci sono continuamente delle notizie che arrivano dai dati macro che non sono buone. Non sono buone perché l'economia va troppo bene, non rallenta. Non sono buone perché i rendimenti di breve periodo, ad esempio, sono superiori a quello di lungo periodo. Quindi vediamo che, per esempio, quello che pagano a due anni è il 4,36, mentre quello che pagano a dieci anni è il 3,56. Ma come? Se ti lasci i soldi per più tempo me li remuneri di meno? Sì, perché quando si arriva in questi momenti di crisi, a ridosso di una recessione, quello che paga il rendimento a breve è superiore quello che paga il rendimento a lungo. Ma soprattutto in questo momento in cui i tassi di interesse sono stati alzati, probabilmente non è assolutamente finita la, diciamo, l'attività di rialzo dei tassi di interesse non solamente a breve, ma io mi aspetto dei tassi superiori al 5 che il mercato sconta, 5,5 e mezzo, e quindi questo premia i rendimenti a breve perché scontano il rialzo di tassi, cosa che poi a un certo punto verrà abbassata prima dei 10 anni, siete d'accordo? Quindi questi elementi insieme a tutta una serie di dati macro, sono più di 60 che noi analizziamo, ci fanno pensare che la crisi in termini di recessione ci sarà, la vedremo nei trimestri anche se arriva in ritardo. E questa cosa che arriva in ritardo fa rimbalzare i mercati azionari perché dice se alla fine gli utili sono superiore a quello che pensavamo, beh allora fammi rimbalzare perché stiamo scontando un S&P troppo basso, giusto? Quindi non è che il mercato è proprio stupido, assolutamente no, però è chiaro che sta recessione fa fatica ad arrivare sulle trimestrali delle aziende, qualcuno questa recessione l'ha scontata prima, per esempio diverse commodity, ma a un certo punto arriverà e quando arriverà potrebbe essere ancora più dura perché ha fatto fatica ad arrivare, perché ho un'economia robusta, una trimestrali che vanno bene la spesa degli utenti diciamo così continua, il lavoro tiene e allora alla fine è tutto questo però che cosa succede? Per far ridurre l'inflazione, salvo l'inflazione venga giù da sola, ma non è presumibile, a questo punto quando a un certo punto schioderà probabilmente gli effetti non saranno per niente felici. Come ci prepariamo a tutto questo? Tradiamo, speculiamo e cerchiamo di guadagnare dei mercati finanziari che sono l'unico posto al mondo dove si può guadagnare anche se l'economia reale fa schifo, anche se le cose non vanno bene nelle aziende. Perché? Perché dagli Stati Uniti in avanti si è potuta avere la possibilità non solamente di comprare gli strumenti quotati ma anche di andare short. Quindi se scende un'azione, se scende uno strumento di qualunque mercato posso guadagnare dalla sua discesa attraverso lo short ed è quello che facciamo un po' con tutti i nostri strumenti. Se ci interessa comprare perché pensiamo che va su la compriamo se ci interessa shortare perché pensiamo che va giù la shortiamo.